salve e ho fatto un video che youtube ha interrotto parlando di questo simbolo qua di questo liberi in veritate e ho letto il loro manifesto i 25 punti del comitato liberi in veritate che qui sono gli elementi che ne fanno parte ricordiamo che sono tutti gente del basso proprio gente proprio dal basso attenzione vediamo aspetta chi ne faceva parte era tutta gente umilissima avvocati e studiosi vediamo se riesco a trovarlo perché ecco la situazione guarda guarda questi sono i nomi di quelle che ne fanno parte docente politologo docente storico statunitense saggista docente avvocato sacerdote saggista giornalista saggista filosofo medico saggista avvocato chirurgo oncologo il tumore proprio i 3a e questo treno che si ripete sempre allora ritorniamo dove stiamo questi sono alcuni delle facce e ricordiamoci anche questa questa qua dei mari che vediamo al volo dei mari la verità la verità è un medico scrive specializzato che lo gioia e scrive per la cazzo di gazzetta qui è bellissimo quotidiano la verità che se uno lo legge c'è veramente da vomitare diciamo ecco da 100 giorni da pagare insomma dai soliti sospetti ora vediamo perché volevo cercare di decifrare queste tre catene qua no questi tre cerchi che si collegano e forse siamo riusciti a ricordiamo anche che nel loro motto con il loro manifesto e c'è una mosca qui che non è riusciti a ricordiamo e ricordiamo che mettiamo F Vigano ecco nel desiderio di accogliere l'appello presentato a sua eccellenza la reverendissima l'arciveso monsignor aspetta che dobbiamo ancora arrivare il cognome Carlo Maria Vigano in realtà tutte queste parole sono inutili bastavano queste queste qua queste qua ok quindi cercavo quindi questa gente qua che ricordiamo anche Mela F sanità pubblica ecco lo stato deve raggiungere il miglior livello possibile dalla qualità della struttura della sanità pubblica indio roba buona insomma poi ho fatto vedere nel video che poi se andiamo un attimo al volo qui io ho anche gulp rifiuto dell'immigrazione qui ho elencato nel mio telegram le fasi più eccitanti di questo loro manifesto primo che insomma viga no ragazzi viga no facciamo così che può darsi viga no obama viga no obama obama anche che ha che ha finalmente portato la sanità pubblica healthcare agli americani da alia salvati eccoci qua roba buonissima ragazzi e questi insomma si affidano a questo individuo qua quindi fra le altre cose creazione di una società espressione di elite dello spirito e del popolo lavoratore ricorda un po il manifesto comunista organica i principi del comunitarismo valoriale lavorativo culturale identitario corretto principio di autorità qui ci sono alcuni dei punti rifiuto dell'immigrazione non dobbiamo inquinare il nostro sangue con altre razze fra virgolette e quindi dobbiamo demarcare ci deve essere una demarcazione culturale oltre che fisica porca puttana appoggio fiscale alle famiglie per appoggiare fiscalmente le famiglie prima le rendi stupide in modo da non badare a loro stessi cioè fai in modo che non lavorino levi tutte le possibilità che una persona possa lavorare e poi ti ti esci fuori tu come quello che li aiuta bellissimo uno stato adesso vedremo perché ho trovato anche dei link con la massoneria di questa gente recupero sotto la responsabile dello stato i settori stato controllo tutto quello parlava che di di essere uno contro lo statismo il tizio la parlava questo qua questo qua aspetta che te lo dò qua al volo te lo dò subito eccolo questo qua questo con la cravatta dice ma io sono contro lo statismo e guarda sta anche da bio blu questo bio blu sta su tutti i canali ovunque sta in italia puoi vedere lui gratuitamente senza un problema qui vediamo il loro virus qua come ho fatto vede è l'ottagono stella otto punta bellissimo per questa argentaglia vediamo cosa c'è questa roba nuova però adesso vedremo questi tre anellini qua nel senso come si affidano alla madonna cuore immacolato attenzione perché in questi giorni oggi è 11 ottobre se non sbaglio il 13 ottobre andiamo a apparizione madonna di fatima se non sbaglio è il fra poco ecco fra poco ragazzi 18 ottobre fra poco ragazzi quando è successo il fratello di giacinda però c'era un 13 ottobre che non ho capito che cazzo è fino al 13 ottobre appuntamento ai tre in quello stesso luogo per i 13 per i 13 di ogni mese fino al 13 ottobre a quindi il 13 ottobre quando finiscono queste loro minchiate non ho capito ora mela f 3 vediamo molte volte 3 pastorelli ragazzi 3 se vedete i preti prete mano 3 hai visto i preti fanno sempre no il 3 con la mano statua statua prete mano 3 vediamo se diciamo papa mano ecco loro fanno sempre questo simbolo qua con le mani con le mani con le mani vediamo se a parte questo a parte questo a parte questo il simbolo anche questo sono 3 eh il 3 è molto importante Gesù 33 morto a 33 anni attaccato 3 volte in 3 punti sulla sulla croce il 3 ovviamente questo ragazzi tesi antitesi il perfetto equilibrio la sintesi bilanciare le forze di questo mondo riuscire a controllare questo bestiame e e questo 3 che adesso non mi sta uscendo però ogni cazzo di papa praticamente c'ha questo cazzo di sembra che fa 2 invece sono 3 no? ecco questo qua questo cazzo di 3 così fanno sempre 3 dita facciamo così papa 3 dita vediamo se funziona eccolo qua eccolo qua ecco qua ecco tutti i papi con le 3 dita così ovviamente ovviamente loro dicono ah ma lo spirito santo è Dio figlio spirito santo eccetera eccetera sì sì piace questo insomma avete capito se voi andate in giro per le chiese ovunque vedete sempre questi cazzo dei mostri che fanno 3 dita così mi ricordo una statua di una città come cazzo si chiamava quella città Bassiano forse come cazzo era vabbè comunque sia c'era una statua che ho fatto il video mi ricordo insomma 3 pastorelli vediamo se ci sono altri 3 che spuntano fuori hai 3 ok sempre dei pastorelli 13 insomma anche secondo il racconto dei 3 ok capito i pastorelli erano 3 ragazzi guarda caso 3 come 33 eccetera eccetera ma torniamo un attimo ai nostri mostri cioè perché loro in questo cazzo di manifesto usano questo 3 qua questo 3 qua ok grazie ah non funziona bene ok ci sono queste 3 catene qua ok 3 se ne va e se ne viene non so perché questa cosa non mi appartiene ok adesso questo è il loro bellissimo manifesto questa è la De Mari stanno un po' in tutti i canali sospetti di controinformazione e Viganalo qua da Obama eccetera eccetera nasce il comitato ok vediamo le loro origini diciamo perché cioè di tutti i simboli che potevano mettere qua oltre al giglio qua la corona tutti questi ornamenti sempre fatti con 3 qua 3 qua quindi 33 3 di qua 3 di qua sempre e vediamo 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 appunto il perché di queste 3 catene qua no al volo no sto cercando al volo se riesco a trovare se sono stati invitati in altri canali sospetti diciamo adesso il nostro massimino vediamo dove sono stati invitati c'è un po' di si fa un po' di fatica col computer ok andiamo a vedere no ok perché ovviamente internet sono andato però non ci interessa più questo vediamo adesso l'origine di queste 3 catene c'è questa vediamo se riesco a trovarlo ordine indipendente di odd fellows l'ordine indipendente di odd fellows o semplicemente odd fellows è una società globale con obiettivi umanitari ah che bello la società è aperta ma ha un codice di discrezione per discussioni riservate hai capito? vediamo il loro bersaglio è tradotto immagine questo sito quindi l'ordine di oddio i membri si aiutavano a vicenda nei momenti di bisogno i membri hanno anche cercato di risparmi quindi in un'alleanza di amicizia, amore e verità vediamo Mela F massone ok odd fellows ha molte caratteristiche affinità con la massoneria anche i massoni sono in quel sono di quel tempo quindi le loro origini l'illuminazione e l'imperismo ha fatto quindi il diciottesimo secolo ha fatto spazio a tali organizzazioni in quel momento anche i massoni sono di quel tempo la ok sono nati in inghilterra conosciuto l'organizzazione anch'essa massonica con affinità massoniche ok e l'oggi massoniche è già chiaro da questi rituali che gli odd fellows hanno una storia diversa da raccontare rispetto ai massoni quindi nell'ordine dei odd fellows i pensieri e le gilde e della massoneria sembrano essere fusi quindi insomma sono loro sono rettili sono intorno a noi mezzo a noi e sono è una società aperta con obiettivi umanitari ok quindi ci possiamo fidare e questi sono i nostri eroi diciamo di mare la madonna non lo so io sto cercando di unire i punti sto cercando di unire i punti questa qua vi parlano i loro 25 punti di sanità e di pubblica e di stato che deve vediamo quante volte viene messo la prova stato qua responsabilità dello stato e dei settori strategici prossimo lo stato deve raggiungere il miglior livello possibile della qualità della sanità pubblica prossimo prossimo ok insomma ricordiamo sempre di nuovo chi è la mente dei fondatori di questa roba libro precedente storico precedente della confederazione imprenditore triari di nuovo sto tre qua triari tv medico chirurgo saggista avvocato precedente medico saggista storico saggista filosofo saggista blog spirito di verità giornalista vaticanista giornalista vaticanista saggista roba buona andatevi a informare su questo comitato del sto cazzo qua e sarà sicuramente con la guida della madonna che ci porterà verso la vittoria ok? chiudiamo qua arrivederci con la guida di vi vi